Oggi si celebra la giornata della Terra per tenere alta la guardia sulle problematiche che affliggono il pianeta e abbracciamola il flash mob social lanciato dal Lega Ambiente per celebrare questo giorno una foto di sé mentre si abbraccia un mappamondo, un disegno della Terra per ricordarci che non abbiamo un pianeta B. Ascoltiamo. Il 22 aprile si celebra la giornata della Terra e abbracciamola il flash mob social lanciato dal Lega Ambiente Puglia per celebrare questo momento istituito dalle Nazioni Unite nel 1970 per tenere alta la guardia sulle problematiche che affliggono il pianeta Terra. Pubblicare una foto di sé sui propri canali social mentre si abbraccia un mappamondo, un disegno della Terra, una piccola scultura o una mappa geografica è un gesto simbolico per sensibilizzare ciascuno di noi a prendersi cura del pianeta che ci ospita un pianeta ormai in sofferenza come noto a tutti, minacciato di continuo dalla crisi climatica che ha già iniziato a far scomparire luoghi di vitale importanza come i ghiacciai. Noi torneremo ad abbracciarci presto, lei ha bisogno di noi, anche ora è lo slogan che accompagna la celebrazione di quest'anno promossa dal Lega Ambiente Puglia. Iniziative come Abbracciamola mirano a scuotere le coscienze e a stimolare azioni tangibili di cambiamento ha dichiarato Francesco Tarantini, presidente di Lega Ambiente Puglia. Una frase che si ripete spesso è che non abbiamo un pianeta B ma quanto si è fatto di concreto finora per salvare quello che abbiamo e stiamo via via distruggendo? L'emergenza coronavirus deve obbligarci a ripensare gli stili di vita rendendoli sostenibili una lezione da trarre e il rispetto imprescindibile dell'ambiente. Aiutare la Terra è possibile riducendo l'impatto di ognuno nel quotidiano al fine di diminuire l'impatto inquinante entro il 2050 data entro cui dovrebbe esserci il passaggio definitivo ad una economia sostenibile perché, vogliamo ribadirlo ora più che mai, non abbiamo un pianeta B. grazie. Grazie. Grazie.